Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova guida di Fortnite Settimana scorsa abbiamo completato delle prove di nuoto a tempo Adesso ne dobbiamo completare delle altre però con il motoscafo Vi faccio vedere subito dove sono i luoghi in questione Ed uno raga ce l'abbiamo proprio sotto ai nostri occhi Eccolo lì, primo luogo da poter visitare per il completamento di questa prima challenge La sfida comunque dice che basterà completare una sola prova a tempo Su tutta la mappa di Fortnite credo che ce ne siano solamente due Ad ogni modo ragazzi sapete tutti quanti dove mi trovo siamo proprio a centro mappa È impossibile sbagliare Sto parlando proprio dell'isolocchio centrale E la prima prova a tempo sarà proprio collocata là sotto Eccola lì Se non volete completarla lì perché magari c'è troppa gente che vi infastidisce Quindi troppi nemici che vi hanno fregato le barche non preoccupatevi Dirigetevi a sud della mappa verso Brughiere e Brumose Esattamente nello stesso laghetto della settimana scorsa Dove abbiamo completato la prova di nuoto a tempo Guardate lì in fondo che cosa c'è ragazzi Tra le due vie è una distanza davvero minima Quindi ci spostiamo verso est ragazzi Ecco la seconda prova a tempo per questa missione Brughiere e Brumose Sud della mappa ci troviamo precisamente qui Prima invece eravamo proprio al centro ragazzi Sotto questa striscia del bus Sfida semplicissima da completare L'unica rottura di scatole purtroppo saranno come sempre i nemici Quindi vi do un consiglio Rissa squadre completatele assieme a qualche teammate Io spero di esservi stato d'aiuto ragazzi Se così fossi mi raccomando lasciate un bel like al video Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Noi ci becchiamo nella prossima video Guida un salutone da Martex SIA BLOOSH Noi ci becchiamo nella prossima video SIA BLOOSH Grazie a tutti.